La tabellina del 4 Prima ripassiamo 4 per 0, 0 4 per 1, 4 4 per 2, 8 4 per 3, 12 4 per 4, 16 4 per 5, 20 4 per 6, 24 4 per 7, 28 4 per 8, 32 4 per 9, 36 4 per 10, 40 Adesso tocca a te, in ordine 4 per 0, 0 4 per 1, 4 4 per 2, 8 4 per 3, 12 4 per 4, 16 4 per 5, 20 4 per 6, 24 4 per 6, 24 4 per 7, 28 4 per 8, 8 4 per 8, 32 4 per 9, 36 4 per 10, 40 4 per 8, 40 Adesso in disordine 4 per 5, 20 4 per 5, 20 4 per 8, 32 4 per 2, 8 4 per 10, 40, 4 per 3, 12, 4 per 0, 0, 4 per 9, 36. 4 per 6, 24, 4 per 1, 4, 4 per 7, 28. 4 per 4, 16. 8. 8. 9.